per far vedere questa villa non so andiamo io non mi ricordo di quella verità andiamo a vedere come si fa come si fa come si fa noi dobbiamo andare verso Campanella inizia ma inizia io tu hai detto tu hai detto ma io ma qui mi sembra c'è la zona centrale sì sì e come si fa come si fa ma oggi non possiamo vedere ma come si fa come si fa ma cosa guarda ma cosa guarda grazie a tutti vediamo guardare dove c'è pietra 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 avanti si guarda che bellissimo non so non so non so non so non so ecco ecco piazzone e piena di posti con olive andiamo a guardare il cibo pizza come la pizza in mondo, come è il settore olio? come si fanno, come si fanno tutti fa, tutti registrano, registrano video grazie a tutti vieno, vieno, vieno ma amore ma voi siete italiani ma italiani mangiare mangiare vedi che è tutto bianco, tutto bianco amore scusa amore guarda che carina avanti è carina ma questa cafeteria è molto molto antica chi è qui ha comprato, non mi ricordo chi, tanti secoli fa, caffè proprio è venuto qui per comprare caffè ma non mi ricordo ma chi è, una regina? no no, re ah re re Merry Christmas eh sì sì, andiamo a vedere, aspetta guarda che piazzetta mh piazzetta mh piazzetta che odore, che odore vediamo in Italia questo odore di cibo non troppo eh sì no di guardate 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 da me io girato lui nascosto e guarda che è aperto aperto dai io attraverso ecco dori che odori stop and go pizzeria bellissima città, bellissima meraviglia e questo è io e sono fantasma bellissima così via che esatello scopo Grazie a tutti 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 E a tutti E a tutti Grazie a tutti Gordiano What were people Yeah? Grazie a tutti No 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 Medievale Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti E a tutti E a tutti Grazie a tutti E 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 a tutti